Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Non è vero. Come va bene, ma? Ehi. Di, di, di. Ehi. 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 vorrei solo lasciare il nostro soro di ciò che si tratta ma se non si deve passare come faccio, ma non si deve fare un povero. Ma se non è venuto, ma non si deve fare... ma se il audito che la corsa, si può avere un pozzo di ruolo per la corsa... Cosa fa? Alla fine, non è un pozzo di trucco. Alla fine, non è un pozzo di trucco. Non è un pozzo di trucco? Ancora Ah, ma qui c'è il fatto? Ah, no c'è il fatto? Ah, non c'è il fatto? Non c'è il fatto? Ah, ma è buona, non c'è il fatto che vanno Ah, ma è buona Ah, ma è buona Si, va bene Viagrapo, dopo Il fatto che il fatto… Ha 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 Ah, ma è buona Ah, ma è buona Ah, ma è buona SONARIA è davvero... ... 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 Sì, sono stati in prison. no one should do that if you're not the dragon of los santos you might not get away with it is what i'm saying you know i'm saying you know i'm 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 there i'm Ahi! Ahi! Sono stati di una giancola e che dicevano che chiamo se ci sono stati che chiamo e se ci sono stati che io alle sono stati che ci sono stati Il nome è YAROYA 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 868 YAROYA 868 YAROYA 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 ... ... ... ... ... ... ... è in fronte di me! ... 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 Sì, 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 sì. Sì, io sono andata. Sì, io sono andata a fare l'occhere. Ah, quindi. Sì, io sono andata. Eh? Sì? Sì, non è che non c'è? Sì, non è che non c'è, non è chiusurato. Sì, non è che non c'è. Sì, non è che non c'è. non c'è ma non i'l'arri ma da te lo solle sono le show c'è il tanto da seiかなと思ってます acai mo se lo so cici di zoku steluro ni cimera le ta in人間 hai taんですよ a solito sen de o da shite non de chi ni ga ciondesta che sono Ma... ... 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 di più bei s questa a 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 o no o no 1人で なんとかできるメンバーだから むずい統率 賞味 賞味むずい 全員1人でなんとかになれるメンバー 逆にむずいんだよ たぶん4人目ありました ほら つよ え こういうこと クヤのところ制圧しましたね こういうことない これで あじゃあ一旦そっち行って売りに行ってもいいですかね ここ人いるので多分売れないので別の場所で オッケースオッケース じゃあ2000番の方行きます チョンガー取れない おお 爆発した爆発した ナイス ナイスすぎる やっと見えた あっと1台ついてきてるっす オッケーオッケー えーっと砂浜にヘリ1台止まってるっすね 今 神回避すぎないよな デカすぎる やばい 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 先生かっこいい これもう2人乗っちゃおう 次行くよ あった 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 爆発した爆発した ナイス ナイスすぎる ナイスすぎる やっと見えた あっと1台ついてきてるっす オッケーオッケー でー砂浜にヘリ1台止まってるっすね 今 神回避すぎる デカすぎる やばい 危なー 先生かっこいい えらいー おめでー 一回外して俺が撃ってみるね 了解 あと1回ぐらいかも やるわやるわ もちアリメイドキーに黒がいるから休憩じゃないか はい 死んでる死んでる ねー6番ねーヘリ3台いる ナイスオールイン6人くらいやってる ボス nailedisi 裏うるるる 最強すぎみんな はっ 衛兵入隊 占裕3人いるんできてほしい ふぇうほ هふー 刺して俺 オッケー ボス全員やりました?多分オールイン オイス過ぎる オイス過ごすぎ 小弟 No Limit過ぎる シャンクさんの4番弟子の方で ああそうですそうです S先輩のあれですよね はい S先輩の弟子と練習試合みたいな そうですそうです ええええ よろしくお願いします ムカつけ ムカつけ ムカつけよ 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 Cosa c'è stato detto che c'è stato fatto? Cosa c'è stato un ragazzo? Ok, ok, ok. Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? È-cosa bicara? Ah, queries attacqué với chiasa cassa yuma. Cosa et 똑같á. Cosa c'est el ritmo. Bol infinite, eh? V Megastyle! Hei, c Thanks! elต görsage nè cèè! Il noch et pas là! ッ, hold on up! V cosas져 bèèèèèèè? Cosa c'è questo? La HUDWA è tutto ! Fai affiancati! Acii! Acii! Ma che? Il negozio è tutto bene? Alcani? 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 non è vero Sì c'è un po' di poterare. Non è vero, non è vero. Non è vero.